La città metropolitana di Torino, la regione Piemonte, l'associazione Progetto San Carlo Onlus, concessionaria del Forte di Fenestrelle, l'Unione Montana, Vallichisone Germanasca, l'Unione Montana Comune Olimpici Vialatte, all'UNCEM, i rappresentanti del mondo imprenditoriale del settore turistico e dei sindacati, hanno siglato un protocollo d'intesa per la redazione di un piano operativo che riguardi il Forte, il territorio delle valli e del Pinerolese, finalizzato al restauro, conservazione, valorizzazione storica, ambientale e turistica dell'area del Forte, in sinergia con progetti di sviluppo territoriale di ampia visione turistica e culturale. I soggetti, i firmatari del protocollo, si sono impegnati a collaborare affinché la gestione del bene sia coerente con i principi e i valori culturali e sociali a cui il Forte, monumento simbolo della città metropolitana di Torino, si è sempre ispirato. I firmatari si sono inoltre impegnati ad articolare programmi di organizzazione e promozione dell'offerta turistica, assicurando il coordinamento e l'integrazione con analoghe attività che si svolgono nell'intera zona omogenea del Pinerolese. E' prevista l'elaborazione di piani di comunicazione annuali, locali, nazionali e internazionali e di strategie e azioni per la promozione dell'immagine del Forte. Per la realizzazione di prodotti multimediali e la gestione di profili social, la città metropolitana mette a disposizione le proprie professionalità interne. Inoltre, metterà a disposizione il suo servizio di assistenza tecnica in relazione ai lavori da realizzare nel complesso monumentale. Oggi a Fenestrelle per la sottoscrizione del protocollo per la valorizzazione del Forte, uno degli edifici e luoghi simbolo del territorio metropolitano. Una grande occasione in cui città metropolitana ha coordinato la partecipazione degli attori economici, istituzionali e sociali del territorio delle valli, con l'obiettivo di creare le condizioni finché questo luogo venga valorizzato da un punto di vista delle sue potenzialità storiche, culturali, economiche e sociali. Parte un processo che speriamo consenta, anche grazie alla collaborazione dell'Associazione Progetto San Carlo, di poter far vivere e crescere questa struttura che rappresenta una risorsa per l'intero territorio metropolitano.